I tuoi clienti di Leoclub Livorno, che cosa apprezzano di te e la tua cucina? La semplicità e non cucinare con salse ad esclusione di due piatti classici. Pappa pomodoro, crostini e fegatini, panzanella di mare, zuppa di pane. Panzanella di mare la chiamo? Anche quella normale? No, metti solo panzanella. Panzanella. E? Zuppa del contadino. No, mangiate la zuppa toscana. Sì, sì. Non la ribollite, la zuppa. La zuppa. E poi mettiamo... Mettiamo... Sto cacucco da qualche parte, vi lo devo dire. Che c'è? Non ci siamo dimenticati della nostra più importante. Non la devi mettere. Mettiamola nel menù. Nel menù? Nel menù delle serate. Nel menù delle serate? Sì. Me lo metto anche nella parte ristorante. Sì, nella parte ristorante c'è sempre presente il cacciucco e il riso nero. Bravo. Sai che figlio che c'è. La ciuglina alla povera. Il baccalà, lo stoccafisso. Perfetto. La fritturina. Il cartoccino di frittura. Sì, sì. Ecco. Questo è un piatto già così composto con un'insalatina di polpo. Ma ora non si descriva così non ti preoccupare. Ma ora pertanto è quello che farò sicché non ti preoccupare. Queste sono le cose, secondo me, è una bella composizione messa in un piatto quando ti ha preso questo. Hai bevuto qualche cosa, ti sei preso un dolcino, sei stato benissimo e spesso 15 euro meglio di tutto il giorno. Se vai a mangiare un panino che ti rimane qui con un bicchiere di vino è spesso 8 euro. Alla fine io qua cosa ho speso? 15 euro. 15 euro con questa sequenza di mani. Meraviglioso. Più il dessert. Sì, sì. Con il vino c'è l'acqua. Meraviglioso. È caro. Ti dici cosa non basta, non fatemelo mangiare. Non fatemelo mangiare. In Italia, compagni. Un piatto che odio. Sì. Non è una cosa facile. Non è una cosa facile. Non ho piatti che odio. Puoi dire, puoi dirmi. Sinceramente, odio gli abbinamenti. Odio gli abbinamenti, quindi non voglio stare a dire. Ecco, senz'altro le gambe le zucchine mi viene la tristezza che devasterei lo padre. Proprio non mi sono dimenticato di scrivere cos'è il prodotto che io adoro. L'olio. L'olio. L'olio per me è il prodotto vitale. Non c'è cosa più buona secondo me anche di un piatto di spaghetti con un olio buono. Tu lo sai? Tu lo sai? Alan Ducasse. Sì. Che dice io in Italia sai cosa mangio? Pane toscano, sale e olio toscano. Ecco, la fettura. Ho finito.